Fondamentalmente è un progetto di marketing territoriale che abbiamo fortemente voluto con Fabiano perché riteniamo di poter attraverso forme culturali e di coinvolgimento del territorio poter dare una spinta in più riguardo alla rigenerazione culturale e del territorio stesso attraverso una serie di installazioni, di laboratori che coinvolgeranno tante realtà tarantine ma davvero tante in questo caso e l'utilizzo dell'arte fotografica di carattere internazionale. Sarà una narrazione lunga, bellissima, che vedrà coinvolti davvero tanti attori del territorio e non solo che è un po' come è accaduto con Trust, avranno l'influenza di artisti internazionali ma la cosa che ci attira più di tutti è quello che le infrastrutture per queste mostre che non sveleremo tutte quante oggi perché vi posso anticipare che giusto ad esempio una sarà direttamente in acqua delle installazioni, quindi delle mostre quindi bisognerà visitarle in barca dove ci sono i nostri campi mitili verranno realizzate dai ragazzi, dai ragazzi della città vecchia, dai cittadini, dai residenti e poi un altro progetto che voglio spoilerare che riguarderà però il prossimo anno durante questa stagione raccoglieremo insieme ai residenti della città vecchia gli album di famiglia che rappresenteranno poi la prossima edizione di Island Island si pone davvero come un elemento di rigenerazione secondo quelle che erano le linee e anche dei fondi Exilba che finanzieranno una parte dell'iniziativa cioè la parte quella più coinvolgente, quella dei laboratori, del coinvolgimento dei residenti ma che sarà sostenuta anche da sponsor privati dal 2 giugno ci sarà tanta bellezza, tanta arte in città peraltro da giugno, giugno e luglio saranno stracolmi di eventi e quindi questa sarà un po' la scenografia la scenografia sarà un po' da collante tra tutti questi eventi quindi insomma ci piace, ci piace molto che la città si animi in questo modo che si animi con artisti internazionali di altissimo livello e soprattutto che cominci un percorso perché noi insomma come abbiamo spesso detto non piacciono gli eventi usejet, gli eventi che cominciano e finiscono ma quelli che si ripetono negli anni quindi vi assicuriamo che siamo solo all'inizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti